La caduta libera del Chieti continua, cambiano gli allenatori ma non la sostanza di una squadra che da troppe partite entra in campo impaurita e poco abituata alla lotta quando questa diventa dura. Il tracollo contro il Fano è senza attenuanti, mancano idee e mordente, il tutto aggravato da incredibili errori individuali. La prima di Pasquale e Luiso è semplicemente da resettare. Non sarà facile perché la manita dei marchigiani rischia di essere pesantissima soprattutto sul morale dei calciatori letteralmente spariti nel secondo tempo. Il bonus tranquillità sta per esaurirsi visto che ora i punti dalla zona calda sono cinque e domenica all'Angelini ci sarà una partita da vincere ad ogni costo contro il vasto Girardi per non entrare nel vortice dei play-out. La partita. Luiso sceglie l'over Vitiello in porta, mette dentro in difesa Esposito e sposta in avanti Cuciniello, rilancia Mercuri che insieme a Salvatore fanno da supporto all'unica punta fall. Nel Fano rientra Capitano Urbinati al settimo cielo per la nascita del primo genito Giulio. Out, Tomassini e Rigioni dirige la Scaro di Matera. Le immagini salienti del match. La gara si sblocca al decimo al termine di una buona azione dei padroni di casa. Ricci pennella un traversone su cui si inserisce un liberissimo culibali che insacca. Esplode lo stadio Mancini. Il Chieti non reagisce e allora il Fano raddoppia con Ricci che spinge in rete un invito di Calombo. I neroverdi trovano la forza di reagire e al 31esimo tornano in partita. Mercuri serve in area Salvatore che conclude sotto la traversa. Passa poco più di un minuto e i neroverdi potrebbero pareggiarla. Ancora Mercuri serve sotto porta Fall che da ottima posizione alza troppo la mira. Il Chieti non insiste e al 39esimo arriva il Tris del Fano. Culibali brucia tutti e inventa una parabola imparabile per Vitiello. Con le immagini di Alberto Capo passiamo alla ripresa. Luiso inizia i cambi per dare più peso in attacco. Al 28esimo il neo entrato Alessandro Gatto ha un buon pallone ma il tiro è troppo debole. Al 33esimo la partita si chiude in favore del Fano. Zanni appena entrato penetra in area e viene falciato. Dal dischetto lo stesso giocatore fa il 4 a 1. Tre minuti dopo la cinquina marchigiana porta la firma ancora di Zanni che approfitta di un erroraccio di esposito e gonfia di nuovo la rete. Il Chieti potrebbe rendere meno pesante il risultato ma Alessandro Gatto si fa parare un rigore da guerrieri. Sugli sviluppi parla in rete di Mercuri ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Finisce qua. Il Chieti incassa la quinta sconfitta nelle otto gare di un 2024 da incubo.